Riccione è tenuta sotto scacco da una baby gang che da alcuni giorni sta imperversando nella zona mare alla Perlaverde, prendendo di mira i ragazzini per aggredirli e poi derubarli. Infatti è stata registrata una nuova incursione avvenuta nella notte intorno alle 2.40. I carabinieri di Riccione sono intervenuti sul lungomare della Costituzione dove era stata segnalata un'aggressione. Arrivati sul posto i militari dell'arma si sono ritrovati davanti un gruppo di ragazzini che hanno raccontato di essere stati appena rapinati dalla baby gang. Secondo quanto ricostruito, le vittime sono state aggredite e un componente del gruppo è stato costretto a consegnare le scarpe griffate dai giovani nordafricani. Sono scattate le ricerche grazie alla descrizione dei malviventi. Dopo nemmeno un'ora i carabinieri ne hanno rintracciati tre che si aggiravano nella zona di Viale Dante. Ad essere bloccati sono stati un diciassettenne marocchino, un connazionale di 19 anni e un brasiliano anche lui di 19 anni. Perquisiti avevano con sé i capi d'abbigliamento sottratti poco prima e il trio è stato portato in caserma. I nordafricani ufficialmente residenti a Osmate e in Brianza hanno sostenuto di essere in vacanze di riviera mentre il sudamericano risulta essere residente a Morciano di Romagna. Tutti e tre riconosciuti dalle vittime sono stati denunciati a piedi liberi e sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare se gli stranieri facciano parte della gang che negli ultimi tempi ha già compiuto fatti analoghi.